Ciondolo Vulcano Non ho lavorato nei ritagli di tempo Anche se ero a casa E niente, questo è il risultato È venuto bellissimo È venuto bellissimo Sì, vabbè Non si vede benissimo Comunque è veramente un ciondolo stupendo I colori sono meravigliosi E poi ho deciso di metterlo dentro questo nastrino Mi sono fatto una misura abbastanza corta In modo che si noti subito il ciondolo Che è la parte, vabbè, ovviamente molto più bella Penso di realizzarlo uno anche in altri colori Forse per me in bianco e nero Poi comunque vi mostrerò la nuova versione Perché, vabbè, sono colori che uso molto di più E quindi il ciondolo potrei indossarlo spesso, ecco E niente, eventualmente questo lo regalerò alla mia mamma Beh, non si vede benissimo Però, vabbè, accontentiamoci E... Aspetta che vi avvicino E niente, io penso che comunque sia un ciondolo Veramente, veramente ben studiato e bello Ok Fatto vedere il ciondolo Niente, non riesco a mostrarvi niente Perché sto ancora completando dei lavori E niente, nella settimana prossima Conto di finire e di farvi vedere tutto Per ora, vabbè, vi auguro una buona giornata E un bacio Ciao